Rassegna stampa del mattino, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV. Questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa nella quale commenteremo tra pochissimo le pagine che abbiamo selezionato per voi questa mattina. Iniziamo dal santo del giorno, lo vediamo subito. Il santo di oggi è San Policarpo, il sole è sorto alle 6.59 e tramonterà alle 17.51. Super anticiclone, clima caldo durante il giorno, attenzione però alle nebbie e agli inquinanti. C'è molta nebbia in queste prime ore del mattino, almeno qua sulla costa dalle nostre parti. Nel weekend forse un tentativo di attacco dell'alta pressione, ma per il momento avremo cielo sereno con sole che farà capolino subito dopo la nebbia. Iniziamo dalla cronaca dell'ultima ora della notte. Andiamo a vedere subito questa immagine, questa fotografia. Si tratta di un intervento dei vigili del fuoco, intervenuti ieri sera verso le 23 ad Ancona in via Enrico Matteni e presi di Marina Dorica per un incendio che ha interessato alcuni capanni al rimessaggio di materiale vario. Sul posto hanno operato otto mezzi dei vigili del fuoco, più la barca del distaccamento portuale e la capitaneria di porto. Al momento non risultano persone coinvolte. Adesso i giornali, restiamo ad Ancona. Carlino, l'apertura, la fotonotizia, la stretta sul porto, ordinanza del sindaco, bar e locali solo per i viaggiatori. C'è polemica per l'assembramento nella zona del porto, ma il sindaco Mancinelli ha fatto quest'ordinanza solo per i viaggiatori, mentre tiene aperte le scuole, scuole chiuse solo per i focolai. L'annuncio della Mancinelli in Consiglio Comunale no a stop generalizzati, ma Iesi non fa dietro front. Il Carlino di Pesaro, la febbre del vaccino, tanti anziani al centro Monaldi anche se chiuso. Fate presto a curarci. Sabato scorso, ma anche ieri, diversi anziani sono arrivati per informarsi su prenotazioni e turni. Riaccendete i teatri con i ristori, piena adesione all'iniziativa per illuminare le platee estremate dalla pandemia. I sindacati dicono il contagio lì non c'è. E poi Massimiliano Amadori, neo capo di gabinetto a Pesaro. A lui totale fiducia da parte del sindaco Matteo Ricci, l'investitura del sindaco. Nuovo invaso si potrebbe fare sul Candigliano, un progetto da 150 milioni di euro. Poi il caso di un medico positivo dopo il siero. La prima dose dice non è bastata. E poi assembramento e alcol a Fano somministrato ai minori. La polizia chiude il Green Pub. Parla il Vescovo, sto bene, entro due giorni mi dimettono. Dice Trasarti e poi l'Asur che cerca una struttura in affitto per diabetologia. Presto nuovi spazi per 8 mila pazienti. Sotto lo sport, Vis per Mister Didonato la fiducia è solo a tempo e il Fano si gode il sorpasso sui cugini pesaresi. Caccia invece ad un nomade che ha tentato lo strappo. Occhio alla zingara, a un debole per i Rolex. Il Corriere Adriatico. Vediamo la edizione di Pesaro. Test in farmacia, falsa partenza. Soria e cattabrighe di Pesaro. Problemi tecnici con la piattaforma regionale fanno rimandare il debutto praticamente a domani. Il presidente di Aspes, Pieri, dice le prenotazioni stanno andando bene. Per le comunali abbiamo già oltre 50 adesioni. Poi la fotonotizia invece il Corriere questa mattina la dedica allo chef stellato Uliassi, Tre Stelle Michelin, che dice basta tirer molla e senza cena non riapro. Da Pesaro ancora va conservato il valore identitario del San Benedetto e l'ex psichiatrico. Poi Pesaro, Amadori, il nuovo capo di gabinetto per il dopo Arceci. E sempre da Pesaro, Tari per il bonus si dispongono verifiche a campione. Alcola minori e fuori orario. Green bar stop per 5 giorni. L'allarme lanciato dai genitori e dai ragazzini. Il gestore dice è stato un assalto incontrollabile. Allora, la situazione da oggi, situazione della pandemia, da oggi 20 comuni dell'Anconetano sono in zona arancione. Quelli che avevano un trend che non lasciava margini di manovra e quindi sono con delle restrizioni importanti. Sono restrizioni che chiaramente non piacciono a tutti, ma ho torto collo, bisogna fare così, diversamente non ci sono altre strade. L'involontario asse baci, baci il sindaco di Iesi, Mancinelli, sindaco di Ancona. Dietro la chiusura dei 20 comuni anconetani, l'intesa nazionale tra il governo e i medici di base, sia le somministrazioni a domicilio. L'altra pagina, rischio effetto domino nelle altre province, il risveglio di Macerata. Variante inglese, nell'ultima settimana i casi di Ancona eguagliano il resto della regione. Ma da Pesaro ad Ascoli i valori sono sotto la soglia dei 250 contagi con ogni 100.000 abitanti. Allora, grazie a questo articolo di Martina Marinangeli del Corriere Adriatico di oggi, andiamo a vedere com'è la situazione nella provincia di Pesaro e Urbino, dove in questo momento i numeri flettono, nel senso che mentre dalla provincia di Ancona salgono, nella provincia di Pesaro e Urbino scendono. E questo è un dato importante, anche perché qua vicino c'è Senigallia che è in zona arancione, per esempio. Allora, una decrescita, parliamo di decrescita di questi dati costante da inizio mese, che ha portato il tasso di incidenza da 142,22 della prima settimana a 136,05 della seconda, al 128,75 di quella che si è appena conclusa. Vedete come scendono questi dati? Importante. Nel capoluogo sono crollate anche le quarantene, quindi a Pesaro sono crollate anche le quarantene. Nel giro di una settimana si è passati dalle 909 quarantene del 15 febbraio alle 627 di ieri. E in generale questo è un trend che accomuna un po' tutti i comuni della provincia di Pesaro e Urbino. C'è solo un comune, in realtà, Serra Sant'Abbondio, che è un piccolo comune con meno di mille abitanti, in provincia di Pesaro e Urbino, che ha un tasso di positività un po' più alto rispetto agli altri. Passiamo da 15 a 21 e 40 persone che sono in quarantena. Ecco, questo è l'unico comune in provincia di Pesaro e Urbino che ha un dato un po' più elevato rispetto agli altri. Poi si parla, invece, sul resto del Carlino, dell'effetto varianti, queste varianti del Covid che chiaramente stanno preoccupando. L'epidemia dunque rialza la testa. Tra due settimane 20.000 casi al giorno. Stiamo parlando di un articolo che troverete nella pagina nazionale del resto del Creo di oggi, a firma di Alessandro Bellardetti. Da lunedì 15 più 2,6% di nuovi positivi, ieri in crescita e ricoveri, anche rianimazione e tasso di positività salito al 5,6%. Ma tornando ai vaccini e al modello inglese di cui ieri abbiamo parlato, elogiando questo modo di fare di Johnson, che, come dicevamo ieri, avrà tutti i difetti del mondo, ma comunque sul fatto che non voglia perdere tempo non si può discutere. Adesso c'è in Italia una circolare su questi vaccini che, in qualche modo, dà il via libera alla strategia alla inglese. Giorgetti vuole produrre le fiale in Italia. Il Ministro della Salute anticipa, serve maggiore flessibilità, prima dose AstraZeneca a tappeto e richiamo solo dopo tre mesi. Allora, Johnson, pensate, ecco il titolo che penso farà felici gli inglesi. Johnson libera la Gran Bretagna, da giugno via tutte le restrizioni. 18 milioni di vaccinati, ieri 178 morti, soltanto, tra virgolette, per la prima volta, meno che in Italia. Dunque, la ricetta di Johnson, premier inglese, sta funzionando. E come è riuscito a far funzionare questa cosa? Portandola a burocrazia, così come ha detto, a zero. C'è una storia, invece, la pagina 3 del resto del canale di oggi, di un medico. Un medico che conosciamo in tanti, perché è un medico che opera da tantissimo tempo, non solo a Fano, ma anche a Fossombrone. Un medico che si vaccina e poi resta contagiato. Non è una cosa inusuale, cioè capita, lo vedremo, lo leggeremo anche tra un istante, la dose è riuscita a indebolire il virus. Però Gianfranco Binotti, sanitario Fossombrone, dice una sola inoculazione non crea scudo totale, però impedisce che il morbo si replichi. Quindi questo vale anche per tutti coloro che in questi giorni, ottantenni, soprattutto, si sono vaccinati, sabato scorso hanno iniziato la vaccinazione, ecco, sappiate che dopo la prima punturina, insomma, c'è ancora un po' di tempo da aspettare, c'è il richiamo e nel frattempo non c'è questa copertura. Bisogna sempre stare molto attenti, ecco, questo per dirla in maniera molto semplice. E capita, scrive, dice il primario di malattie infettive di Pesero, Francesco Barchiesi, capita a volte perché gli anticorpi sviluppano tardi, dopo la prima fiala la risposta immunitaria può non essere sufficiente, in effetti la prima iniezione può non bastare, il soggetto può restare scoperto, ma chiaramente è comunque qualche reazione, anche la prima dose evidentemente la dà, quindi può indebolire il virus. Intanto ci sono buone notizie anche che arrivano sempre dal reparto di Pesero dove è ricoverato il vescovo di Fano Trasarti, sto bene, dice lui al telefono con Tiziana Petrelli. Fra un paio di giorni torno a casa, la terapia al plasma funziona, in via di miglioramento anche il suo segretario Don Luca. Il bollettino medico dice che sono passati febbre e tosse, la respirazione autonoma e senza bisogno di ossigeno. A Fano, ragazzini con gli alcolici, chiuso il Green Pub, locale multato, i minori portati in commissariato, il titolare dice fanno ordinare al maggiorenne e poi spariscono, impossibile stargli dietro. Nel corso dei controlli sigilli anche al circolo sportivo sulle rive del lago Solazzi. Dunque controlli e multe al Green Pub che è stato chiuso al pubblico, è un bilancio di fine settimana di controlli anti-Covid che sono stati effettuati a Fano dalla Polizia di Stato guidata da Stefano Seretti. Poi lo sfogo del barista monta l'insofferenza, ovviamente non può non essere che così, non sono un delinquente, delegazione dalla municipale, mano più morbida, a Centinarola un esercente lamenta l'accanimento, Ristoritalia va dai vigili e in qualche modo per dire capite le nostre difficoltà. È un messaggio che è stato scritto, un cartello che è stato affisso dal titolare del bar Franco. Sempre da Fano, la pagina del Corriere Adriatico, Alcola, minori e fuori orario, Green Bar stop per cinque giorni, questo è il titolo, il gestore parla di un assalto ingovernabile, l'allarme lanciato alla Polizia dai genitori. Stessa sorte anche per il bar Franco, scrive il Corriere questa mattina, chiuso per cinque giorni, il bar di Centinarola riaprirà solo sabato prossimo, un provvedimento adottato dalla Polizia Locale di Fano che è stato criticato con un manifesto affisso alla vetrina del locale e dallo scritto si può dedurre che la misura è riferibile alle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19 e dunque un'assenzione economica che probabilmente fa meno male rispetto al resto, insomma, il fatto di dover chiudere, di non poter lavorare come uno vorrebbe. Andiamo sulla, restiamo sempre sulla pagina di Fano, Vescovo Trasati, niente febbre, respira da solo, notizie confortanti dal nuovo bollettino sulla salute del presule. C'è anche, non ci sono solo i piccoli bar, i piccoli ristoranti, ci sono anche quelli che hanno nomi altisonanti come Uliassi, nelle Marche Uliassi è il nome per eccellenza, uno dei pochi che ha sul petto le stelle Michelin. Trattoria tre stelle, insomma, trattoria o tre stelle Michelin, lo stop and go è un disastro, dice Uliassi, è senza cena, io tengo chiuso, categoria praticamente distrutta, aprire a pranzo non basta, dice lo chef. Abbiamo avuto ragione, ma questo non mi rende soddisfatto, anche perché ognuno fa le sue scelte e si muove secondo le proprie possibilità. Uliassi, che ha questo ristorante a Senigallia, sorride amaro in faccia all'ennesimo cambio di colore, per loro, ripeto, a Senigallia è arancione, che penalizza soprattutto le attività di ristorazione. La nostra categoria, dice Uliassi, è a pezzi. Lo stop and go per i ristoranti crea una serie infinita e tragica di problemi. Che il ristorante sia stellato o una bellissima trattoria, la differenza non fa, non c'è. Stop and go, perché anche lì, insomma, ristoranti, provate a immaginare voi a dover fare la spesa, sapendo che forse fra due giorni sarete chiusi. Non è che sia il massimo. Crack Wellness, tre ex amministratori, siamo su Fano, ancora dal Corriere Adriatico, tre ex amministratori indagati dalla Procura per Bancarotta. Tra di loro c'è anche Bernardini, direttore generale del Fano Calcio, in precedenza al Teramo, passivo di 900 mila euro della società che gestiva un centro benessere. Il centro benessere, lo vedete in questa foto, che ha cambiato gestione e funziona molto bene. Interventi ai passeggi, siamo sempre a Fano, non è il momento, Brunori sul dissesto, necessario bel tempo e temperature più alte. Ancora da Fano dal Corriere. Innovazione per superare la crisi, poi grande attenzione alla scuola. L'imprenditore Ferrini racconta la reazione alla pandemia e il supporto garantito agli studenti. Poi Ponticelli sull'Arzilla, ora tocca al Comune, convenzione con la Regione, le strutture diventano un patrimonio pubblico, l'accordo riguarda sia la passerella pedonale che quella ciclopedonale. Nomade tenta di sfilare invece un Rolex, poco dopo ruba in Via Rossi, siamo sulla cronaca di Pesaro del Carlino, ha puntato l'orologio di un passante in Via De Gasperi, poco dopo ruba le chiavi di casa ad una donna. Era stato arrestato in Via Cavour, invece per resistenza, aggressore della municipale, patteggia otto mesi e torna libero. Poi sempre dal tribunale, convalidato arresto del 65enne, il GIP ne dispone i domiciliari, aveva 75 grammi di cocaina in macchina. La ciclabile Fanurbino non si fermi a Tavernelle, la minoranza di Fossombrone chiede al Consiglio di cogliere l'opportunità aperta dalla Regione. Sotto ancora da Fano Caritas, due progetti in tempo di quaresima. Ancora dai giornali, verifiche continue alle mura, evitiamo, siamo a Mondolfo, evitiamo, si ripeta Corinaldo, Lucchetti lancia il grido d'allarme e chiede l'Umi sui lavori in corso sulla manutenzione. Poi la politica, Lega, Mondolfo, Daniele Tonelli e il segretario del Carroccio, passaggio di consegne con Stefano Bedini. Sotto ancora da Mondavio, invece via ai lavori per l'ampliamento del cimitero, nuovo contratto, la ditta che si era giudicata il bando, è stata sollevata. A Senigallia una bambina sparisce all'improvviso tre anni. Potete immaginare voi che cosa hanno pensato in quei minuti terribili i genitori di questa piccola. È successo domenica nel lungomare di Senigallia, mentre c'era molta gente, era molto affollato, paura. Una coppia non vede più la sua piccola, la polizia accorre e per fortuna tutto finisce bene. È stata ritrovata da un ristoratore. Questa è la cronaca sul resto del carino di oggi di Senigallia. Poi sosta gratis per donne in gravidanza e sotto scuole nel mirino, quarantene chiuse. Quarantene e chiusure. Si moltiplicano i casi di positività tra gli studenti e anche tra il personale in tutto il senigallese. Ecco perché poi vedete i dati, alla fine i conti tornano sempre. Pesaro Urbino, la strada sia unica. Siamo ancora sul carlino. Il sindaco Gambini ha incontrato Matteo Ricci. Sul piatto il collegamento tra capoluoghi di provincia. Questa immagine stranamente un Matteo Ricci senza mascherina, mentre Gambini, appunto, l'altro avventore invece sì. Poi è ufficiale. Sgarbi, candidato sindaco a Roma. L'annuncio lo ha dato sui social. Ne parla ovviamente anche il resto del carlino nella pagina di Urbino, perché gli urbinati che salutiamo, sappiamo che ci seguono in tantissimi ogni mattina, gli urbinati hanno Sgarbi come prosindaco. E dopo averlo annunciato a ottobre, Sgarbi passa ai fatti, e sarà uno dei candidati alla carica di sindaco di Roma. L'intervento del prosindaco di Urbino, che ha ufficializzato il tutto tramite la propria pagina Facebook, è arrivato ieri pomeriggio a rendere lievemente più ordinato il caos che regna attorno alla corsa al Campidoglio, di cui finora si conosceva un solo protagonista, ovvero Carlo Calenda, mentre le principali forze politiche, che non hanno ancora rivelato i nomi, su cui punteranno. E quindi Sgarbi, che tenterà la corsa al Campidoglio. Noi con questo ci fermiamo qui. La rassegna stampa finisce qui. Vi ricordo, questa sera, alle 21 circa, dopo il telegiornale delle 20 e 30, guarda chi c'è, con Vincenzo Varagona, giornalista, scrittore, che verrà intervistato da Paolo Notari. Vi ringrazio per averci seguito. Buona giornata, arrivederci.